Luciano Caldore Gituano Caldolo Un giacquaro tutto quando e il video se piace qua Mario Corti il video è un film questo è sì no 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 tutto quanto? tutti quanti? non ti dico? sei entrato verso? vado a fuggire all'auto vedi la macchina vedi no Pietro per questi film ci sono i film su satanassi e te prendi film ti filmo c'è satanasi il film Alessandro Siano non mi è giusto bello che ho malato ma rischia che ho matato che asciugato l'è la sola rocola non mi è giusto 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 60 euro è successo è successo non mi è giusto guarda quello che si sta non mi è giusto non mi è giusto non mi è giusto guarda la giusta io non mi è giusto è vero Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info